Buongiorno e benvenuti a tutti ad un professore, buongiorno, è un piacere averla con noi e la ringrazio molto a nome di tutti anche per la sua disponibilità. Grazie a voi invece per l'invito. Grazie a lei professore. La presento brevemente, Alessandro Arienzo è docente di storia delle dottrine politiche presso l'Università Federico II di Napoli dove insegna dottrine politiche e filosofia politica insieme al professor Gianfranco Borrelli e coordinatore scientifico editoriale di Ars Rosa, centro studi su ragion di Stato e democrazia. Nei suoi lavori di ricerca si occupa dello sviluppo del pensiero politico nella prima età moderna, delle teorie della governance, delle trasformazioni del sistema democratico e delle teorie della democrazia partecipativa. È autore di differenti pubblicazioni, articoli scientifici su queste tematiche. Ricordo tra tutti Emergenze democratiche, ragion di Stato, Governance e Governamentalità, scritto insieme al professor Gianfranco Borrelli, edito da Gianni Editore. Il libro La Governance, edito da EDS, un libro che ho qui con me e che studente ci servirà come spunto per alcune domande fra un professore. Come ho detto precedentemente, nei prossimi incontri fino a giugno ci focalizzeremo appunto su questa tematica, cioè sul rapporto tra neoliberismo e Unione Europea. In particolare oggi con il professor Arienzo cercheremo appunto di indagare sul ruolo, la forma politica e la governance nell'ambito dell'Unione Europea, cercheremo anche di capire come questa è in relazione con il neoliberismo. Noi di tutto sopra ci siamo già occupati del tema della governance, in particolare ce ne siamo occupati con la professoressa Giuliana Commisso qualche mese fa. A proposito invito anche a riascoltare l'incontro con la professoressa che per titolo è la genealogia della governance. Ma comunque essendo un tema di centrale importanza, molto complesso e da osservare con attenzione, specialmente anche sotto diverse prospettive, ce ne siamo voluti occupare sia oggi ma ce ne occuperemo sicuramente anche in altre occasioni. A questo punto passiamo alle domande. La prima domanda che vorrei fare, professore, è una prima domanda introduttiva che facciamo sempre all'inizio degli incontri di questo canale, semplicemente per fissare i punti centrali, cioè le chiedo che cosa si intende, che cos'è il neoliberismo? Allora partiamo con una domanda difficilissima a cui rispondere, perché in realtà non esiste una definizione in qualche modo condivisa del termine neoliberismo. Ne esistono diverse sulla base di approcci diversi. Proviamo a definire in qualche modo dando una definizione di lavoro il neoliberismo. Il neoliberismo potremmo definirlo come un approccio al rapporto tra lo Stato e l'economia che si sarebbe sviluppato in particolare a partire dagli anni 70 e in poi, in cui sostanzialmente i principi del liberismo economico, sostanzialmente quindi possiamo dire la centralità dell'economia di mercato, della competizione, la riduzione del ruolo dello Stato, la dimensione centrale dei diritti individuali, in particolare del diritto individuale alla proprietà e al diritto di impresa, in qualche modo diventano, assumono una dimensione centrale nella vita pubblica. È chiaro che diventa poi complesso rispondere alla domanda del perché neoliberismo, cioè qual è quella qualità specifica che negli anni 70 distinguerebbe questa orizzonte neoliberale dal liberalismo classico. Qui ci sono anche degli elementi ancora di natura definitoria che sarebbe importante definire. Diciamo che sostanzialmente però è dagli anni 70 in poi che un certo spirito capitalistico si afferma e ha dei principi che in qualche modo avevano retto quello che Wolfgang Streck, sociologo, filosofo tedesco, ha definito una sorta di capitalismo democratico che si sarebbe affermato dalla fine della seconda guerra mondiale, almeno fino agli anni 70 in cui in qualche modo lo Stato, i partiti, gli attori sociali avrebbero definito una modalità di relazione da un lato certamente conflittuale però in fondo anche consensuale si rompe e gli animal spirits del capitalismo si renderebbero in qualche modo più liberi, più autonomi e prevalenti sul piano internazionale. E qui le due figure chiare sarebbero quelle di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, in particolare in Italia potremmo fare riferimento alla marcia dei 40.000 della Fiat negli anni 80 e così via. Detto questo diciamo uno spirito complessivo che traccia una nuova epoca in cui sostanzialmente si dà più spazio all'economia, alle relazioni di mercato nei confronti dell'intervento pubblico e quindi con una minore attenzione alla redistribuzione, una minore attenzione al ruolo di governo dello Stato nell'economia, si aprono però poi una serie di approcci diversi su come poi propriamente interpretare il neoliberismo. In termini molto rapidi ed essenziali, poi magari se lo ritornete ci possiamo tornare un po' più nel dettaglio, io ve ne segnalo almeno due, che ci aiutano un po' a comprendere l'orizzonte del dibattito contemporaneo su questo tema. Una prima modalità di interpretare il neoliberismo è quella tipicamente marxista, possiamo fare riferimento in particolare ai lavori di David Harvey. Perché è importante sottolineare, diciamo, breve storia del neoliberismo, è forse il testo più interessante e rilevante su questo argomento, non è l'unico? Perché Harvey sostanzialmente dice che il neoliberismo è la fase della globalizzazione in cui i percorsi dell'accumulazione economica capitalistica in qualche modo si esercitano oltre i tradizionali limiti che la lotta tra le classi aveva in qualche modo posto, era riuscita a porre. Quindi la definizione che Harvey dà al neoliberismo è sostanzialmente una definizione che pone il neoliberismo in continuità con la storia del liberismo economico e con il percorso di sviluppo dell'economia capitalistica. Una diversa definizione è quella di Michel Foucault, che caratterizza per esempio oggi tutti gli ambiti prevalenti della cosiddetta teoria critica. La definizione foucaultiana mette piuttosto in risalto un salto governamentale, cioè una rottura nelle forme di vita dovuta a una riarticolazione complessiva dei rapporti tra gli individui e lo Stato, tra gli individui e la società e tra lo Stato e la società in questa triangolazione. La lettura di Michel Foucault non è una lettura alternativa o completamente distinta da quella di Harvey, ci sono dei punti di continuità evidentemente, ma sono due approcci molto diversi. In Foucault possiamo dire nei percorsi foucaultiani si accentua la dimensione appunto del salto, della rottura. La centralità è quella dell'emergere di una figura particolarissima che chiamiamo l'homo economicus. E allora la forma di vita specifica, potremmo dire, della nostra contemporaneità centrata sul ruolo dell'attore individuale come imprenditore delle proprie risorse, quindi imprenditore di se stesso, diventa decisiva e preeminente. Da questo punto di vista, a differenza di Harvey, si costituisce un vero e proprio salto e allora si comprende, diciamo, le ragioni di quel neo. La posizione della Thatcher per cui non esiste la società, ma solamente gli individui e le loro famiglie, sarebbe un salto nelle forme di vita sociale. Perfetto, professore, la ringrazio per questa introduzione. Comunque ci ha messo i punti chiave, diciamo, i due orientamenti centrale di importanza, da una parte Marx con Harvey e Foucault, dall'altra. A questo punto cerchiamo di entrare più nel merito del tema di oggi, perché parleremo sicuramente di neoliberismo, ma come abbiamo detto, in relazione alla governance e in relazione all'Unione Europea. A tal proposito, nel suo libro, la cito, lei scrive che la governance, lungi dall'essere il frutto effimero di una nuova moda, è segno dei profondi mutamenti nei modi di intendere e di praticare le politiche democratiche. Inoltre, lei afferma che la governance ci permette di comprendere le relazioni tra fenomeni tra loro legati, come il deficit democratico, la crisi dello Stato e la postmodernità. Quindi, con queste affermazioni si capisce che cosa che è il fenomeno politico della governance è di cruciale importanza per cogliere che cosa? Per cogliere i cambiamenti in atto nelle nostre democrazie. Quindi, detto questo, le vorrei chiedere che cosa si intende per governance e in che modo si collega questo tema al neoliberismo. Ma, allora, anche qui abbiamo tante questioni definitorie che andrebbero sciolte. Banalmente, anche legate tutto sommato al suffisso che viene dall'antico greco, no? Chiubernau è l'arte della conduzione sostanzialmente. Governance in inglese si usa per esprimere il risultato sostanzialmente di un'azione collettiva e in qualche modo distinto dal governo. Il governo come come sostantivo, il governo come verbo del governare, la governance come il risultato di questa azione. In italiano non abbiamo questa pluralità di differenze. Il fatto che invece nell'inglese, per esempio, ma anche nel francese vi sia, anche se meno usato, questa differenza ci permette di presentare una prima generalissima definizione di governance. La governance potremmo dire che è l'insieme dei modi attraverso cui prende forma l'azione collettiva. Però questa, evidentemente, è una definizione tanto generale che conserva al suo interno anche quelle forme particolari di esercizio dell'azione collettiva che è, per esempio, il governo statale, il governo esercitato da un'autorità pubblica. Evidentemente, quando noi utilizziamo invece il termine di governance nel dibattito contemporaneo, nel dibattito pubblico, facciamo riferimento a qualcosa di diverso. Facciamo riferimento a una modalità specifica di conduzione dell'azione collettiva in cui l'attore pubblico, lo Stato in particolare, quindi il governo come quel soggetto che in qualche modo esercita la funzione dell'esercizio pubblico di potere, si ritrova collocato al lato di processi che si governano o si autogovernano in qualche modo. E allora qui abbiamo un'accezione un pochino più ristretta della governance, non tanto un'accezione larga come qualsiasi forma di autogoverno dell'azione collettiva, ma potremmo dire quella forma particolare di darsi di relazioni politiche che soprattutto sul piano internazionale intorno agli anni Ottanta e in maniera accelerata, diciamo, alla fine degli anni Ottanta, agli inizi degli anni Novanta, in qualche modo sono stati rappresentati in un testo straordinariamente interessante di due sociologi Rosenau-Exempiel come Governance without Government. Qual era il punto di partenza di questi due studiosi? Che sostanzialmente in una fase che noi potremmo dire di neoliberismo vincente, per fare riferimento a quello che abbiamo detto prima, il ritrarsi dello Stato, il lasciare campo all'autogoverno dell'economia metteva in risalto che sul piano di una emergente vera e propria globalizzazione, che era globalizzazione economica ma era una globalizzazione in termini più ampi sociale, sostanzialmente si davano forme di coordinamento dell'azione collettiva sul piano internazionale che facevano e potevano far a meno dello Stato. In qualche modo rappresentavano quel ritrarsi, quel ridursi della funzione statale. Allora in questo senso Governance without Government si danno, dicevano questi autori, forme plurali di organizzazione politica internazionale in cui non c'è bisogno della funzione decisiva dello Stato, perché la società comincia a dotarsi in qualche modo di una tramatura di relazioni che regge, nonostante la funzione decisiva del potere politico. Questo aveva evidentemente come riflessione una ricaduta immediata sulla modalità che noi abbiamo di pensare e di praticare la democrazia, perché il sistema democratico, che per noi è sostanzialmente sistema democratico rappresentativo, nelle democrazie avanzate magari è maggioritario, nel senso che chi assume la maggioranza dei voti poi governa, elettivo, noi eleggiamo dei nostri rappresentanti, sembrava in qualche modo gravato dalle difficoltà del sistema politico e qui c'era un documento importante della Commissione Trilaterale sul tema della governabilità che segnalava quanto gli stati democratici tra gli anni settanta e degli anni settanta in poi fossero gravati da questa pluralità di richieste sociali che non erano in grado, a causa delle lente mediazioni tra i partiti, gli accordi, in qualche modo non erano in grado di rispondere con i tempi rapidi che la globalizzazione richiedeva. Ebbene la governance sembrava promettere in qualche modo una forma diversa di relazioni tra gli attori sociali che non dovendo passare attraverso le lunghe mediazioni giuridiche politiche dello Stato e degli attori politici classici, diciamo sostanzialmente sindacati e partiti, poteva garantire una maggiore flessibilità di intervento, ma anche in fondo delle relazioni orizzontali tra attori che entravano in dinamiche di negoziazione, di confronto. Allora sembrava in una certa fase della crisi del sistema politico democratico rappresentativo offrire un'alternativa, cioè intorno alle forme democratico rappresentative classiche noi possiamo costruire queste reti di negoziazione diffusa che operano positivamente in termini come dire di allargamento della capacità dei soggetti di entrare nella cosa pubblica. Poi chiaramente, ma lo possiamo discutere magari tra un attimo, si è rivelata questa osservazione efficace alla prova dei fatti? Questo è un altro paio di maniche. Mi permetto solo di osservare una cosa, rispetto a quella definizione che tu leggevi dal mio libro, un libro del 2013. Beh, sono successo una serie di cose, diciamo, negli anni. Per cui oggi vi proporrei di riflettere insieme sull'idea del se in realtà poi questo orizzonte di governance in qualche modo oggi non si è entrato in crisi. Perché quelle aspirazioni globaliste che dalla fine degli anni 80, fine degli anni 80 significa l'89, il crollo del muro di Berlino, in fondo il rompersi di quella conflittualità che aveva caratterizzato per l'appunto il capitalismo democratico dalla fine degli anni, dalla fine della seconda guerra mondiale, almeno fino alla fine appunto degli anni 70, il venir meno di quel contenitore complessivo sembrava aver liberato le forze della democrazia liberale che assumeva nella globalizzazione e richiamava poi nella globalizzazione una forma politica che non c'era e che si cominciava a nominare come governance per l'appunto. Ebbè dopo il 2001, dopo le crisi del 2006-2009, 2008-2009, in qualche modo la crisi europea, forse i sovranismi, il ritorno dei populismi, sembra in qualche modo entrata in crisi, in una sua forma. Ma su questo magari ci torneremo tra un poco. Ringrazio il professore, ci torneremo sicuramente perché è un tema appunto centrale e sarebbe interessante metterlo in luce. A proposito, adesso vorrei infatti mettere in evidenza, una volta che lei ci ha aiutato a mettere in luce il concetto di neoliberismo, di governance, come questi concetti che rappresentano essere espressioni diciamo di una profonda trasformazione che si assiste nelle relazioni tra Stato e mercato, tra pubblico e privato, come questi concetti si legano all'Unione Europea, cioè come questi concetti appunto sono legati strettamente all'Unione Europea. Nel suo libro, detto del 2012 o 13, se non sbaglio, lei si occupa, in un intero capitolo, al secondo capitolo, della governance europea. E mette appunto in luce che cosa? Ci mostra le modalità di conduzione, gli orientamenti di fondo appunto di questa modalità della governance. Quindi quello che vorrei chiederle è se ci aiuta a mettere in evidenza l'origine, diciamo la costruzione e anche le relazioni che ci sono tra Unione Europea e governance. Bene, allora... E magari professore, mi scusi se la interrompo, magari anche capire, come ha detto lei poco fa, se in questi anni possiamo fare un bilancio positivo o negativo. Esattamente. Sì, allora partiamo proprio da questa riflessione che facevamo in qualche modo un attimo fa sul problema della democrazia. Diciamo che in modalità diverse, alla fine degli anni Ottanta, c'è la sensazione da un lato che il sistema democratico liberale sia evidentemente vincente, viene meno l'alternativa comunista sovietica e le democrazie si affermano, il modello democratico liberale si afferma come il modello in qualche modo politicamente vincente e però nello stesso tempo aumenta anche in qualche modo una disaffezione, cala la partecipazione dei cittadini alla vita politica democratica, il sistema dei partiti deve riorganizzarsi perché chiaramente un sistema dei partiti, nelle principali democrazie mettiamo da parte il sistema statunitense che in qualche modo è un sistema diverso in questa polarizzazione tra democratici e repubblicani, ma in fondo un po' in tutta Europa la caratterizzazione ideologiche classiche, i socialisti, i comunisti, i democratico conservatori, in qualche modo perdono i comunisti in Italia, immaginate, perdono un quadro di riferimento complessivo. Questo chiaramente modifica sostanzialmente anche il ruolo per esempio di attori intermedi come i sindacati che devono ripensare la loro funzione e la loro operazione. In fondo anche i cittadini in qualche modo tendono ad allontanarsi dalla vita pubblica. Le democrazie rappresentative sembrano svuotarsi di quel legame virtuoso tra i cittadini e il sistema delle mediazioni politiche centrato sul ruolo della partecipazione. In Italia la partecipazione è importante nei partiti, nei sindacati, anche attraverso la mediazione delle chiese per esempio. Tutto questo sembra venire meno. Si apre un nuovo quadro e ci si pone il problema di quali sono le forme politico-istituzionali che possono reggere questa nuova condizione evidentemente. La governance è considerata una delle opzioni possibili. Ce ne sono altre, contemporaneamente le riflessioni intorno alla democrazia di Doe, governance si comincia ad avviare, ci sono riflessioni importanti sulle democrazie deliberative che sono in fondo una forma non dissimile, da quella della governance, sulle democrazie partecipative e così via. Tanti modelli che tentano di rispondere a un'unica domanda legata al fatto che le democrazie rappresentative sembrano non essere più in grado di reggere fino in fondo il carico della politica. E allora il quadro europeo. Perché qui ci sono almeno due elementi importanti. L'89 apre un quadro geopolitico. L'Unione Europea, in fondo l'esperienza europea, diciamola così, a partire dalla cieca fino alla comunità europea, che poi diventerà per l'appunto Unione Europea, si era costituita in un quadro geopolitico particolare. L'Europa in fondo era una sorta di cuscinetto, luogo di conflitto e mediazione tra i due blocchi. Quando il conflitto tra questi due blocchi viene meno è chiaro che anche il sistema delle relazioni politiche europee deve in qualche modo ripensarsi. Da questo punto di vista è decisivo, io credo, il passaggio della Commissione Prodi, e il motivo per cui noi ne abbiamo lavorato, c'è un capitolo dedicato su questo e in questo volumetto, la Commissione Prodi lancia, in qualche modo nel 2001, la sfida di un ripensamento delle istituzioni democratiche europee. Teniamo conto di un dato, parlare di Europa intanto è parlare di articolazioni complessive molto diverse. Noi tipicamente facciamo riferimento nel dibattito comune all'Unione Europea, che sono i 27 stati ora post Brexit. Tendiamo ad associare in maniera stretta l'Unione Europea all'Eurozona, ma sono due cose completamente diverse, il che significa che la funzione della Banca Centrale Europea, che è una funzione in qualche modo importante di sistema dentro l'Unione Europea, però ha un ruolo specifico per alcuni dei paesi che partecipano nell'Eurozona. L'Unione Europea, il sistema politico istituzionale europeo, non è evidentemente pensabile con le categorie tipiche della democrazia rappresentativa centrata sullo Stato nazionale. Ha bisogno di categorie diverse. Allora lo sforzo della Commissione Europea, mandato Prodi nel 2001, è individuare nella governance una categoria che possa in qualche modo rappresentare una modalità diversa di praticare la democrazia a livello europeo. Fermo restando il ruolo del Parlamento, che in qualche modo è il luogo della democrazia rappresentativa. Fermo restando il luogo del Consiglio, che è il luogo in cui, il punto in cui i capi di Stato, i ministri si incontrano nel rappresentare le istanze dei singoli Stati nazionali. Noi abbiamo bisogno di una funzione di coordinamento, di direzione politica di un sistema istituzionale radicalmente particolare, radicalmente diverso da quello che noi pratichiamo e che si vuole rilanciare. Non dimentichiamo che quella è la fase dell'allargamento est, che crea tutta una serie di questioni complesse anche nel ruolo dell'Europa, della Germania, della Francia, rispetto a Stati, per esempio la Polonia, l'Ungheria, che in qualche modo si erano da poco liberati dal gioco sovietico. Bene, la categoria di governance, in questo importante e interessante documento, il libro bianco sulla governance europea, che se non erro è proprio del 2001, cercava di lanciare una riflessione rispetto a modalità diverse di interlocuzione diretta tra il sistema politico europeo e gli interessi della società europea, che offrisse una via alternativa alla negoziazione tra gli interessi, le parti, i gruppi e le istituzioni europee, che di per sé da solo il Parlamento non riusciva, con il Parlamento europeo, con le sue mediazioni rappresentative a garantire. Questa è la grande sfida che viene messa in campo con la proposta Prodi del 2001. Sarà una proposta che non avrà grandi esiti, ma il processo di integrazione politica europea continuerà, anche dopo il 2001, tenuto conto del fatto che nel 2001 accade un altro evento importante, l'attacco alle torri gemelle, New York 9-11. Perché quello è che è un momento in cui, in qualche modo, una durezza della politica, e a questo seguiranno poi le crisi economico-finanziarie, quindi si trascineranno le primavere arabe, si trascineranno poi dietro, in qualche modo, anche i drammi contemporanei delle migrazioni, bene, tutta una serie di pressioni sul sistema politico europeo che, in qualche modo, fanno venire meno quella dimensione, potremmo dire, ottimistica che era dietro l'istanza della nuova prospettiva di governance lanciata da Prodi, che non scompare, ma in qualche modo si articola, perché le priorità del sistema politico europeo diventano altre, a partire, per esempio, dalla priorità economica, in particolare dalla priorità segnata dalle crisi finanziarie dal, diciamo, 2006 in poi, in maniera marcata, di totarsi di una governance, per esempio, monetaria, che è diventata, ed è ancora oggi, per certi versi, una delle priorità del sistema politico europeo. E allora, da questo punto di vista, la governance, almeno a livello europeo, cambia faccia. Possiamo dire, e qui in maniera estremamente semplificata, se nella fase espansiva della governance politica, rappresentata in termini più alti, da un lato dall'ONU sul piano globale e in termini europei della proposta Prodi, regge fino almeno al 2003-2004, con le grandi crisi economico-finanziarie della seconda metà del primo decennio degli anni 2000, emerge un altro orizzonte, un'altra istanza. Potremmo dire non con una gamba socialdemocratica, ma potremmo chiamarla forse una gamba monetarista. Qualcuno la definisce neoliberale, in qualche modo, in maniera più netta. Io sono su questo proprio perché ci sono quei problemi definitori di prima, oggi tendo a usare meno questo termine. Ma per intenderci, sicuramente la priorità del sistema politico europeo è di favorire un processo politico di integrazione sulla base di un processo politico di costruzione di un sistema economico monetario più solido, più forte, che in fondo fa tornare il sistema politico europeo a quella che era la dimensione originaria. Perché qual era la dimensione originaria della sfida europea? Non potendo, questa era l'idea non dei grandi padri fondatori nobili, manifesto di Montetene, colorni rossi, per cui sostanzialmente si doveva trovare il modo di costruire un'Europa federale, un modello federalista, che in realtà non si è mai pienamente, non si è mai realizzato, ma resta come una delle grandi idee europee. E beh, si ritorna a quello che invece è stato il modello di composizione vero del sistema politico europeo. Cioè un modello per cui l'integrazione politica era in qualche modo spinta e guidata da un processo di integrazione economica. Si costruisce la tramatura delle relazioni socio-economiche tra gli Stati europei e questo sostiene un lento, progressivo, a pezzettini processo di integrazione politica. Questa cosa è in qualche modo ritornata, ma in un contesto diverso in cui però le pressioni politiche, le migrazioni, le crisi economico-sociali, quindi i populismi, in qualche modo bloccavano il sistema politico europeo. E arriviamo all'oggi sostanzialmente. Io ho provato a definire la condizione, diciamo, di questi decenni con l'idea di una governance economica della politica. Cioè dopo il 2008 si è cercato, attraverso questo processo di composizione della governance economica europea, di consolidare un processo di coordinamento politico. Questo però è ribaltato con una serie, in qualche modo, di rotture per l'appunto politica. Per certi fessi potremmo dire che il ritorno drammatico dei populismi sono da un lato l'esito dei conflitti geopolitici che il 2001, l'attacco delle torre gemelle, ha rappresentato, ma dall'altro lato, delle politiche feroci che sono state messe in campo dopo le crisi economiche del 2006-2008. E questo ha rotto quella relativa condizione, diciamo così, di compromesso democratico che aveva sostenuto il progetto europeo nelle due fasi, quella diciamo pre-anni 90 e nella fase successiva agli anni 90, facendo emergere invece queste dimensioni nazionali fortissime, che premono dal basso sul piano delle istituzioni europee, questo ha significato una centralità non più del Parlamento, ma del Consiglio, cioè del ruolo esercitato dai rappresentanti degli stati nazioni, che è una delle grandi questioni politiche dell'oggi. E allora i dibattiti e le riflessioni intorno alla necessità di ampliare il principio che l'Europa possa decidere non all'unanimità, ma a maggioranza. Ora ci sono molti ambiti di competenza europea in cui l'Europa può decidere tranquillamente a maggioranza. Però poi vedete la Brexit, è un segnale in qualche modo di come le cose possono rompersi. Quindi l'Europa è in una situazione, io direi oggi, di guado e potremmo dire che quel modello di governance, ossia di diciamo così, conduzione tecnica o almeno ipotesi di conduzione tecnico-negoziale delle contraddizioni politiche, è in qualche modo fallita. E richiama oggi la necessità di pensare in maniera diversa l'orizzonte politico-democratico anche dell'Europa. Grazie professore. A proposito di questo e della conduzione tecnica, diciamo che l'Unione Europea ha nel suo modo appunto di condurre la politica, ci potrebbe fare qualche esempio, ne ha richiamato comunque potrebbe fare qualche esempio concreto di come si manifesta la governance europea. Penso ad esempio ai susseguirsi i governi tecnici o a comitati di esperti da sforzo, la gestione anche della pandemia. Ci potrebbe appunto fare questo qualche esempio a tal proposito? Beh sì, in fondo gli esempi sono diciamo prevalenti, sono questi. Quando noi riflettiamo sulla diciamo così governanza europea dobbiamo sempre tener conto che c'è un intreccio di livelli e di articolazioni i cui equilibri sono anche molto dinamici, tendono a cambiare in funzione anche degli eventi. Per cui è parte della governance europea anche il Parlamento con tutte quelle procedure di diciamo così elezione, di relazioni, di mediazioni tra i partiti che poi per esempio definiscono una certa maggioranza nel Parlamento europeo, un certo tipo di rapporto con la Commissione europea e così via. Però certamente l'Europa si regge su un processo diciamo così di armonizzazione. Provo a usare questa espressione. Da un lato certo di integrazione politico-economica-sociale più complessa. Immaginiamo per esempio le politiche di mobilità degli studenti, Erasmus, quelle sono uno degli strumenti di in qualche modo integrazione europea. Cioè si immagina il fatto che i futuri cittadini dell'Unione, viaggiando in qualche modo scambiandosi nelle relazioni internazionali, si sentano un po' più cittadini europei o appartenenti a un sistema politico complessivo che possiamo chiamare Europa. Quindi questo è un processo. Poi però c'è tutto un elemento che a questo si aggiunge che è quello potremmo dire dell'armonizzazione, della standardizzazione dei processi, della standardizzazione o dell'armonizzazione della legislazione degli elementi regolatori nazionali ed europei. Perché questo riesca? L'Europa si è dotata di una pluralità diciamo così di comitati di esperti, di gruppi, di tecnici, di luoghi di ascolto. Se ci si va a rileggere la bozza appunto, prima la bozza, ma poi il documento finale del libro bianco sulla governance europea, questi elementi di, diciamo così, negoziazione diffusa tra gli interessi. E gli interessi che cosa sono? Associazioni, gruppi di cittadini, sono le aziende e le organizzazioni, diciamo così, di aziende, i sindacati stessi in qualche modo. Chiamiamoli così, portatori di interesse. Bene, tutti questi portatori di interesse incrociano, dovrebbero incrociare le istituzioni europee attraverso la mediazione di una serie di tecnici o di funzionari che istruiscono le procedure della relazione tra queste parti. Sono magari procedure di ascolto, per cui era il tipico caso, diciamo, dei libri bianchi e dei libri verdi, si vuole intervenire, la commissione vuole intervenire, diciamo, normando un certo settore, apre un dibattito, convoca attraverso una serie di funzionari e di esperti gli interessi più importanti su quel tema, magari apre anche un dibattito aperto alla cittadinanza in termini generali, raccoglie i pareri e poi si istruisce per deliberare. I comitati tecnico-scientifici, sono tutti temi, come dire, più complessi. Evidentemente alcuni possono intervenire su materie che sono materie, diciamo, di diretto interesse o di diretto intervento dell'istituzione dell'Unione, ce ne sono altre sulle quali magari non si può intervenire, perché invece sono materie di primaria rilevanza degli stati nazionali. Ma pensiamo anche, per esempio, a una dimensione particolarissima che riguarda soprattutto chi come noi attraversa gli spazi universitari, il cosiddetto processo di Bologna o la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore. Intanto ci pone un problema. Il spazio europeo dell'istituzione superiore coinvolge quasi, se non ricordo male, 48 stati. Quindi parliamo di un processo politico europeo che però si rivolge a una serie di attori che è ben più ampia dei 27 dell'Unione europea. E si regge sostanzialmente sul coordinamento tecnico, per esempio immaginiamo tutte le politiche di riconoscimento dei crediti, che però hanno anche, in fondo, un risvolto politico. Ci sono degli orientamenti generali di principi e di valori che si stabiliscono e poi tutta una serie di politici. E così via. Ma potremmo fare riferimento, come dire, ai diversi direttorati generali di cui l'Europa si è in qualche modo dotata. Per non parlare poi, ci sono degli studi che lo fanno vedere, delle migliaia, come dire, di figure con funzioni tecnico-comitariali che sono a Bruxelles. Ma perché questo, diciamo? Perché la natura dell'impresa politico-istituzionale europea, che è assolutamente, come dire, diversa, ed è una natura che in qualche modo pensa diversamente l'equilibrio tra un'autorizzazione politica, che è quella che noi esercitiamo quando andiamo a votare, noi autorizziamo qualcuno a decidere per conto nostro, e questo processo di autorizzazione rende legittima la procedura politica in un sistema, quello europeo, che non può fino in fondo beneficiarsi di questa dimensione, deve pensare a altre forme di legittimità. Allora, qua utilizzo, come dire, una riflessione di altri politologi, qual è il tipo di legittimità che usa, che ricerca l'Unione Europea, l'istituzione europea? È una legittimità basata sulla capacità operativa, cioè sulla capacità di venire incontro agli interessi concreti che attraversano la società. Cioè, laddove quello che le istituzioni europee mettono in campo funziona, questo attribuisce, restituisce legittimità. Le cose non sono però andate propriamente così, perché questo può valere sulle questioni tecniche, ma quando hai ad affrontare le grandi sfide che oggi abbiamo di fronte, pensiamo, come dire, alle sfide climatiche, pensiamo alle grandi migrazioni, le crisi socio-economiche dovute, per esempio, ai problemi economico-finanziari globali, e beh, lì non c'è tecnico che tenga, lì hai bisogno del politico, hai bisogno della mediazione politica. E questo è mancato. E manca forse ancora oggi. Professore, la ringrazio chiarissimo. Purtroppo ci siamo arrivati alla conclusione, faccio un'ultima domanda, ma spero che avremo altre occasioni per discutere. La domanda che le faccio è che, anche emersa dal suo discorso, sembrano venir meno comunque gli spazi di politica democratica. Io, infatti, vorrei chiederle, quali sono gli spazi politici democratici che rimangono alla collettività, se le decisioni politiche cruciali e determinanti sono prese da tecnici competenti in sindacabili e la governanza sembra aver assorbito qualsiasi spazio democratico? Io direi, diciamo, sono meno pessimista, o meglio. La situazione è sicuramente complessa per le istituzioni politiche democratiche, per chi pensa a una cittadinanza, a una capacità di essere cittadini attivi intorno a un'idea, diciamo, di partecipazione, sostanzialmente, anche proprio dal basso. Io penso che, però, tutto sommato, a livello europeo, così come a livello, come dire, dei singoli stati nazionali, vi sia ancora molto, diciamo, in campo. Immaginiamo e pensiamo, sarà stato detto già negli altri vostri incontri, all'importanza che in questi anni, per esempio, hanno avuto movimenti come il movimento, come dire, di Me Too, o il movimento negli Stati Uniti contro le violenze nei confronti dei neri, e così via. Le lotte che oggi vengono fatte sulle migrazioni, a favore dell'accoglienza, le lotte studentesche. Io penso che ci sia comunque una ricchezza democratica nelle nostre società, che in qualche modo tiene e regge le spinte, invece, a una riduzione degli spazi politici. C'è un conflitto in atto, come nella storia c'è sempre stato, in fondo, tra, magari, delle minoranze, dell'elite, dei gruppi di interesse che intentano di occupare l'insieme dello spazio politico, e chi si sottrae, o cerca di allargare, invece, lo spazio politico. Noi siamo, come dire, io credo, in questa condizione, certamente in una fase storica in cui, evidentemente, la crisi politica democratica si fa sentire. Io sono, diciamo, non sono tra quelli che accoglie le proposte cosiddette populistiche, anche quelle che, in qualche modo, guardano a un orizzonte progressista o, in qualche modo, di sinistra. Ma cerchiamo anche lì, però, di cogliere la dimensione, magari espressa con degli strumenti che io personalmente posso ritenere non condivisibili, però anche lì, l'esigenza di partecipazione, di rinominazione, di ripensamento della politica. Io credo che lì ci sono delle energie che noi, in qualche modo, possiamo mettere in campo. E penso anche che queste energie saranno sempre più mobilitate da alcune grandi sfide complessive e globali che noi abbiamo da praticare, a partire da quella climatico-ambientale e i processi di trasformazione impressionanti che le nuove tecnologie da scienza stanno mettendo in campo. Io credo che quelle sono degli spazi su cui si può praticare e sperimentare forme diverse, come dire, di partecipazione e di intervento pubblico democratico. Qual è il prerequisito? La cultura. Studiare, studiare, studiare. Io credo che questo, diciamo, sia veramente il luogo, il punto sul quale si giocano un po' tutte le battaglie. E l'ultimo elemento, sicuramente io credo che, benché gli attori, diciamo, le forme politiche tradizionali del sistema democratico, i partiti, i sindacati, in modalità elettorali, siano in enorme difficoltà. E pur convinto che si debba fare uno sforzo di immaginazione enorme per individuare forme diverse, realizzare diversamente il sistema politico democratico, la convivenza democratica, noi non possiamo abbandonare quegli spazi. non li possiamo abbandonare perché, in qualche modo, è uno degli strumenti importanti che oggi abbiamo. Come praticarli? Questo sta, in qualche modo, al lavoro collettivo che dobbiamo fare nei luoghi in cui lavoriamo, nei luoghi in cui viviamo, sicuramente nelle piazze, sicuramente in tutti gli spazi della vita associata. Professore, con questa risposta finale almeno ci dà un po' di speranza, quindi gli spazi ci sono, infatti possiamo metterli in pratica, anche noi come associazione, il nostro piccolo, cerchiamo di fare un lavoro anche divulgativo, speriamo utile. Professore, la ringrazio di nuovo, speriamo di rincontrarla e poter dibattere ancora su altre tematiche, spero di incontrarla di nuovo. Io sono io che vi ringrazio ancora, speriamo di incontrarci quanto prima anche in altri luoghi, un saluto a tutti quanti voi, anche chi magari ci ascolterà domani. Grazie professore, di nuovo arrivederci, a presto. Arrivederci, arrivederci.